è cambiato il vecchio modo di telefonare è cambiato il vecchio modo di guardare film è cambiato il vecchio modo di ascoltare musica lasciate le spalle anche il vecchio modo di lavorare e di affidare i carichi cominciamo a lavorare con Presto per affidare un incarico ad un legale esterno non servirà più versare fiumi d'inchiostro o ricorrere a vecchi e macchinosi sistemi non possiamo più permetterci di perdere tempo ed energie quando la tecnologia ci offre nuove opportunità smettiamo di rimanere legati alle abitudini e guardiamo avanti, sperimentiamo, mettiamoci in gioco l'affidamento di un incarico legal ad un avvocato esterno ora può essere gestito attraverso uno strumento nuovo, snello e intuitivo il campo 14 di Presto il layout chiaro e pulito garantisce ordine ed immediatezza la presenza di un manuale operativo rende i compiti dell'asset manager e del referente legale ancora più semplici con AS400 gli incarichi correvano in solitari, isolati, senza rotta né indicazioni ben precise i dati erano parziali e sommali ogni incarico era una freccia scagliata nel buio molte volte il referente era costretto a riprendere il fascicolo e a verificare tutto nuovamente da oggi cambierà la visione di insieme dell'affidamento legale ogni incarico sarà frutto di una scelta consapevole, chiara e ponderata con Presto gli incarichi avranno una rotta da seguire i dati saranno coordinati e precisi i conferimenti legali avranno, da oggi, uniformità e coerenza più dettagliate saranno le indicazioni dell'asset manager minore sarà il tempo impiegato dal referente minore sarà il tempo impiegato dal referente ad evadere ogni incarico maggiore sarà il numero di essi con AS400 la reportistica poteva offrire soltanto un quadro parziale della reale attività svolta l'analisi che ne scaturiva era tesa fondamentalmente ad evidenziare gli eventuali ritardi accumulati nei conferimenti ed il processo di estrazione risultava poco fruibile la conseguenza era un monitoraggio miope che enfatizzava soprattutto il solo ed esclusivo lato referente legale ora invece con il nuovo campo 14 i report potranno offrire nuove dimensioni d'analisi grazie all'arricchimento dei dati sia nella fase di segnalazione e sia in quella di conferimento sarà possibile valutare l'economicità dell'affidamento proposto le transazioni intavolate nonché le performance degli avvocati coinvolti e monitorare puntualmente l'attività dell'asset manager sarà possibile altresistimare i costi e le previsioni di recupero relativa ai singoli AFL monitorandone i volumi, le tempistiche e le tipologie segnalate infine il processo di estrazione sarà immediato e inintellegibile mediante apposita query preimpostata che andrà aggiornata di volta in volta con un semplice click è fondamentale avere ben chiara la differenza tra gruppo e squadra fare una cosa insieme non significa essere una squadra nella squadra c'è un obiettivo chiaro un modo di lavorare consapevole e dei ruoli stabiliti l'idea di squadra non è semplicemente tirare dalla stessa parte se riusciamo a creare un gioco di squadra un metodo di lavoro i giusti meccanismi allora cominciamo a avere una struttura per poter vincere l'uomo che in passato possedeva una moneta con il tempo ne ha cercate due e poi tre sino a desiderare tutto l'oro della terra questo sogno ora diviene realtà grazie a presto non restare fermo e immobile a guardare ma apri le porte al cambiamento la chiave del successo è a due passi da te come narrava un vecchio saggio la bellezza è una moneta che ha corso solo in un dato tempo in un dato luogo e quel luogo è il nuovo campo 14 presto 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 presto